Il Biceglie chiude il 2023 facendosi un doppio regalo di Natale prima della sosta. Vittoria 2-1 in rimonta a stornare contro Real City la nona nelle ultime dieci partite. Ma soprattutto la vetta consolidata del girone A di eccellenza. La squadra di Dimeo però parte male, anzi malissimo, al quinto errore difensivo del Biceglie Ciccone in becca a Caputo che solo davanti a Suma lo supera e sigla all'1-0. Real City in vantaggio ma i nerazzurri stellati non ci stanno e reagiscono. Al decimo pallonetto sotto misura di diritto salvataggio quasi sulla linea di Muzzo. Poco dopo Conee prove il raso terra che termina a lato. Il Biceglie insiste. Al dodicesimo Conee serve diritto colpo di testa sul fondo. Al ventesimo diagonale di Conee respinge tricarico pallone a diritto che calcia male la difesa poi allontana. Al trentatresimo gli sforzi del Biceglie trovano il gol del pareggio. Petitti alimenta l'azione, poi Conee palla per diritto, tocco sotto misura ed equilibrio ristabilito al San Rocco di Stornara. Al quarantaquattresimo i Bicegliesi ci provano ancora con il destro di Bonicelli in aria, tricarico para 1-1 all'intervallo. La ripresa si apre come il primo tempo con il Real City pericoloso. Al sesto infatti il neo entrato Mlinde di testa coglie la traversa, poi Lucero si rifugia in angolo. Padroni di casa ancora vicini al vantaggio. Ma è il Biceglie a prendere in mano la partita e a completare la rimonta al diciassettesimo. Azione insistita, Rodriguez Scodella in aria per il colpo di testa vincente di Bonicelli e 1-2 per i ragazzi di Dimeo. Decimo gol in campionato per l'attaccante argentino classe 2000. La partita si addormenta, il Real City non riesce a reagire, anzi sono gli ospiti a cercare il gol sicurezza. Prima al ventitresimo, sinistro di Bonicelli centrale, poi al quarantatresimo con la doppia chance sempre per Bonicelli. E qua me, entrambi i tiri neutralizzati dalla difesa. Finisce così con la vittoria del Biceglie che chiude al meglio il 2023. In testa alla classifica, dandosi appuntamento al 2024, al 7 gennaio, quando i Nerazzurri saranno di scena a gravina contro Spinazzola. Real City, che chiude comunque una prima parte di stagione importante al quarto posto dopo la sosta, sarà sfida a Molfetta contro il Borgo Rosso.